Finalmente una buona notizia. Sono state settimane dure per noi di Vallefoglia che, come tutti sapete, ci hanno tenuto arancioni per più tempo e adesso finalmente siamo tornati gialli, anche se si può stare solo all'aperto, almeno possiamo tornare a fare quello che ci piace di più, quindi gli aperitivi. I clienti hanno recepito questa notizia in modo molto positivo, infatti già mi sono arrivate tante prenotazioni per il weekend e quindi sono solo che contento. E' più un neo, quella del solo all'aperto o quella del coprifuoco? Beh, già solo l'aperto è un bel problema per il tipo di attività che facciamo noi. Quella del coprifuoco, trovo che sia una cosa imbarazzante dover chiudere per forza tutto le 22. In questo momento però non ci troviamo al caffè 2 più 6, ma ci troviamo in un altro locale che sei in procinto di aprire con altri tuoi soci, non possiamo svelare nulla, però c'è tanta voglia di iniziare. Guarda, non vediamo l'ora, stiamo preparando tutto a puntino, stiamo sistemando la cucina, facendo tutte le prove, il posto tu lo vedi, anche se non possiamo svelarlo e non vediamo l'ora di poter partire. Sicuramente non mancherà tanto, non mancherà tanto e avviseremo tutti i nostri concittadini di questa, quando avverrà questa apertura. Allora, si chiamerà la Roomba, è il concetto, la Roomba Concept Pub, quindi è proprio un nuovo concetto di, diciamo, ristorazione. Hamburger, con panini prodotti da noi, i bandi faremo noi, pizza al padellino e sushi. Una bella sfida, combinare tre cucine in un unico posto, ma a noi ci piacciono le sfide nuove e difficili, soprattutto per questo momento. Fortunatamente è una boccata di ossigeno, ci permettono di fare sedere i nostri clienti al tavolo, anche se solo all'aperto. Fortunatamente noi abbiamo tanto spazio e speriamo di continuare, di migliorare sempre questa situazione. Delle due limitazioni, qual è quella che più incide? Quella della sera, le limitazioni della sera, in un locale predisposto come il nostro per eventi, le 10 sarebbe quando te incominci a lavorare. Però la gente si adatta, partiamo prima. Sono arrivate qualche pronotazioni per il weekend? Sì, tante. Anche dalla settimana scorsa, prima che si sapesse di che tornevamo a Rancioni. Questa settimana hanno prenotato già tutti i tavoli, i posti sono limitati, quindi la gente lo sa e si è mossa molto bene, prima. Io me lo auguro, lo vedo come un inizio, sperando a un'estate che almeno sia come quella dell'anno scorso, alla normalità quasi. Sì. Sì.